Siamo con Alessandro Cantore, CEO di Greenspider e parliamo di un progetto rivoluzionario, un progetto che si chiama Smash e che praticamente consiste in un open source per il vehicle sharing. Ce lo puoi raccontare? Certo, certo. Smash è un progetto che vuole cambiare radicalmente la mobilità e i modelli di vehicle sharing che vediamo oggi in campo perché appunto è open source, cioè un modello espandibile, cioè una mappa dove si possono aggregare veicoli, flotte e oggetti da condividere per la mobilità flotte o veicoli innovativi come questa bellissima bisce elettrica che è dotata del nostro dispositivo, diventa connessa, localizzata e quindi condivisibile in modo sicuro Dalla app l'utente si può autenticare e pagare anche per il tempo di utilizzo del mezzo Un progetto che ha vinto anche un premio, giusto? Sì, con Smash abbiamo vinto tanti premi tra i quali nel programma Horizon 2020 di Commissione Europea abbiamo vinto un grant anche di finanziario cospicuo nel programma Open Disruptive Innovation perché è proprio un'innovazione dirompente che sperabilmente migliorerà il modo di spostarsi nelle nostre smart cities Noi ce lo auguriamo, grazie e complimenti Grazie a voi e grazie soprattutto anche alla tecnologia Internet of Things, in questo caso i nostri oggetti sono mezzi mobili che anche piacevoli da utilizzare e quindi questo è un contesto ideale anche per promuoverli, grazie Grazie